Il recupero e la riqualificazione dell'intero territorio flegreo è fortemente sostenuto dal Port Campania Feser 2007-2013. Si va dal grande progetto ambientale che interessa i due laghi dell'area e i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto per finire agli interventi di natura urbanistica contenuti nel programma PU Europa dedicato alle città medie. Un'attenzione al territorio per sostenere uno sviluppo che faccia leva sulla qualità dell'ambiente e sul risparmio energetico, per favorire una crescita socioculturale capace anche di migliorare la ricettività e la qualità dei servizi offerti al turista. In quest'ottica si inquadrano gli investimenti di riqualificazione che interessano l'area di Porta Nuova, uno degli accessi al rione Terra o il progetto di ricomporre l'originario complesso cinquecentesco di Don Pedro di Toledo. Iniziative che si caratterizzano per una serie di interventi di rigenerazione urbana in aree nodali della città che hanno una forte relazione con percorsi e linee di sviluppo del turismo, in particolare archeologico, come testimoniano i lavori per il restauro del Duomo di Pozzuoli nel rione Terra sostenuto dal FESR nella precedente programmazione.